In conclusione di questa prima giornata qui al Forum della Cultura Ludica diamo il benvenuto a Giancarlo Tavella, qui in rappresentanza dell'Associazione Birilli di Farigliano, Piemonte, che ci presenta un intervento dal titolo Racconti e oggetti di gioco nelle langhe. I giochi tradizionali praticati nelle langhe, regione storica del Piemonte situata nel sud-est della provincia di Cuneo, sin da tempi antichi sono giochi di origine rurale, che si svolgono all'aperto in luoghi pubblici e che creano un'opportunità per l'intrattenimento e la relazione fra le persone. Il dottor Tavella ci parlerà approfonditamente di questi giochi. Lasciamo la parola al nostro ospite. Grazie, buonasera a tutti. Bene, le langhe sono una zona del basso Piemonte della provincia di Cuneo, quasi al confine con la Liguria. Sono caratterizzate da due zone, una zona un pochettino più bassa con colline coltivate a vitigni e una parte più quasi montagnosa verso la Liguria, dove viene coltivato il nocciolo e dove ci sono molti boschi. Questa, quindi, la conformazione del territorio... La conformazione del territorio vi fa capire quali possono essere i giochi che si giocano. Giochi prettamente di origine contadina, agricola, giocati in funzione di quello che è il terreno, perché ovviamente il terreno influisce il gioco. Per fare un esempio, in molti paesi di pianura si gioca con i carrettini che vengono tirati, da noi i carrettini vengono fatti correre giù dalle strade in discesa. Quindi questo è molto significativo. Nelle Langhe il gioco ha sempre avuto un'importanza fondamentale, sia di coesione tra la gente, ma anche come uno sfogo per poter riprendere un po' dalle fatiche del lavoro. Da noi si è sempre giocato a giochi anche d'azzardo, e questo si vede anche nella letteratura. Se voi prendete, Nuto Revelli ha scritto alcuni libri dove ci sono delle testimonianze di questa voglia, di questo desiderio di giocare, dove appunto l'azzardo ha un'importanza molto grande. Pensate che c'è gente che a carte ha perso anche delle fortune. Da noi, come si dice, alla cascina. Quindi diciamo che il gioco nelle Langhe è sempre esistito e soprattutto era un gioco abbastanza povero perché veniva inventato, così si può dire, dalla gente utilizzando i materiali che trovava. I due giochi, ci sono una serie di giochi, i due giochi principali di cui volevo parlarvi sono il gioco della Pallapugno e il gioco dei Birilli di Farigliano che è un gioco che si gioca solo a Farigliano che in dialetto si chiama Bie. Come dicevo, ci sono anche altri giochi, giochi che non sono esclusivi delle Langhe ma che si trovano in molte parti d'Italia, dall'albero della Cucagna alle trottole, ad altri giochi. Però diciamo il gioco del pallone elastico è un gioco che pur giocandosi in tutta Italia si è ridotto alla provincia di Cuneo, al sud del Piemonte e qualche zona della Liguria. Il gioco della Pallapugno si gioca utilizzando un pallone che pesa circa 190 grammi. questo pallone che originariamente veniva giocato con il bracciale, il bracciale poi è stato sostituito da una fasciatura come vedete, che si fa sul polso sostanzialmente per riparare il polso. Questo pallone viene colpito, viene giocato da due squadre composte da quattro giocatori. Il gioco ormai non si gioca più nelle strade, nelle piazze come potete vedere in questo filmato, ma si gioca quasi esclusivamente negli sferisteri, cioè in questi campi che sono di un centinaio di metri per 18, mentre una volta si giocava nei cortili, nelle piazze e la particolarità qual è? E' quella dell'imprevedibilità del campo stesso, cioè si giocava sotto, ecco, per esempio qui si vede una piazza, quindi il rimbalzo, lo stesso tetto veniva utilizzato nel gioco. Il gioco si svolge in questo modo, ci sono due squadre di quattro giocatori formate da un battitore che è di solito il capitano, la spalla che è colui che lo coadiuva e da due terzini, di solito un terzino d'appoggio e un terzino esterno, perché il campo vedete è costituito da un rettangolo di gioco e uno dei lati lunghi è chiuso da un muro o da una, attualmente c'è un muretto con una rete che arriva anche a 12 metri. Il muro serve d'appoggio e serve soprattutto viene utilizzato dai giocatori per creare degli effetti, per creare delle difficoltà agli avversari. Quindi il gioco funziona in questo modo. Quando si inizia la battuta la metà campo è a metà campo. Successivamente il giocatore deve cercare di buttare la palla fuori campo e se la butta fuori campo fa un 15 perché il punteggio è simile a quello del tennis. Se la palla non va a fondo campo e viene colpita e non esce direttamente si segna quella che si chiama una caccia, si segna un punto dove questa palla è stata fermata. una volta che vengono segnate queste cacce i giocatori cambiano campo e la caccia è la delimitazione della metà campo per cui cosa succede? Che più la caccia è stata fatta lontano dalla battuta meno terreno dovrà essere difeso e quindi sarà un vantaggio per la squadra. capisco che non è semplicissimo è difficile anche a vederlo spiegarlo ancora di più. Quindi il gioco come vedete da questi filmati viene praticato un po' dovunque. Un'altra particolarità è il gioco della pantalera che se volete potete vedere qui in via Viviani giocato da una squadra dell'Albese di Alba la particolarità della pantalera è che la battuta non viene fatta da fondo campo liberamente ma il battitore getta la palla su uno spiovente e utilizza questo spiovente per mettere in difficoltà l'avversario. La pantalera è un gioco che viene fatto soprattutto dove il campo di gioco non è lungo perché non si possono fare le battute lunghe perché i battitori battono la palla anche a 80-90 metri la lanciano mentre invece quando si gioca in campi più corti si preferisce giocare alla pantalera proprio per perché non c'è la possibilità di questo gioco lungo. Come dicevo ormai la palla pugno viene giocata sostanzialmente in pochissime zone della provincia di Cuneo c'è un campionato nazionale di serie A serie B eccetera però le squadre le squadre sono mi pare 8 e non di più si gioca anche in alcune comuni della Liguria e diciamo che ormai è diventato molto più uno sport che non un gioco il 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 gioco il gioco comportava anche una situazione particolare che come dicevo prima è quella per esempio delle scommesse perché da noi quando si gioca a pallone noi chiamiamo pallone tucur c'erano molte scommesse e la scommessa non era sulla partita ma era a volte su un fallo su una battuta e i giocatori normalmente stavano vicini al battitore proprio fisicamente anche per prendere magari accordi perché si scommetteva utilizzando anche la disponibilità del battitore e a volte si riusciva anche non dico a corrompere ma avere un aiuto arrivando poi ovviamente a dividere quello che possiamo chiamare il bottino della scommessa qui vedete anche i ragazzi che giocano ad una pallone elastico leggero ora si gioca molto nelle scuole questo pallone elastico leggero magari se non dovrebbe esserci molto di più adesso vi parlo si lascia pure ecco dopo il pallone pugno vi parlo di un gioco che è molto particolare un gioco che si gioca solo a Farigliano è un gioco di birilli si gioca si gioca giocano solo le donne gli uomini non giocano in dialetto si chiama bie le bie sono queste cose qua ecco i birilli sono questi si gioca con nove birilli il otto hanno questa altezza che circa un'ottantina di centimetri poi ce n'è uno un po' più alto che circa dieci centimetri più alto è il birillo centrale quindi una particolarità di questo gioco è il fatto che giocano solo le donne gli uomini non possono giocare non vengono lasciati giocare i birilli vengono abbattuti da delle bocce di legno io qua ne ho alcune che sono vecchie ma quelle nuove sono sostanzialmente come queste sono delle le palle di legno di circa tre etti vengono tirate contro questo castello di birilli il gioco si conclude quando una coppia fa i 24 punti ma i 24 punti devono essere esatti ovvero la giocatrice che supera i 24 punti deve tornare a 14 punti più i punti di supero quindi devono essere fatti 24 punti esatti questo questo gioco ha una noi abbiamo fatto delle ricerche sono state trovate degli appunti negli statuti medievali c'è una leggenda più che più che un fatto storico c'è una leggenda che dice che la marchesa Isabella Doria che era la diciamo la governante di Farigliano per mettere fine ad una serie di battaglie che c'erano all'interno di fazioni di rioni dove gli uomini combattevano lotte vere e proprie per mettere fine a queste sanguinose battaglie ha chiesto alle donne di voler risolvere la questione giocando i birilli per cui in quel modo le donne hanno giocato i birilli si sono sfidate i birilli e si è diciamo si è chiuso si sono chiuse queste fight interne del paese le donne quando giocano i birilli normalmente giocano ovviamente per vincere ma pretendono di solito premi in in oro o in argento è una magari un ciondolo magari una però per questo deriva dal fatto che a Farigliano nel all'inizio del 1900 c'era già una c'era una fornace molto grande dove venivano fatti i mattoni e circa il 70-80% della forza lavoro che non si occupava dell'agricoltura veniva assorbita da questa grande fabbrica e molte donne moltissime donne lavoravano in questa fabbrica per cui anche le donne avevano diciamo una loro autonomia economica e di conseguenza proprio per l'innata voglia di scommettere di giocare le donne quando giocavano i birilli giocavano e scommettevano denaro quindi questa tradizione di giocare e giocare a denaro è stata portata avanti e adesso diciamo è trasformata nel premio in oro ecco però questo deriva da questo stavo dicendo un'altra particolarità del gioco e questo evidenzia il fatto che ci giocano le donne non so se avete notato adesso non vorrei ci sono dei bambini ma non vorrei che non so se avete notato la forma la forma del birillo che diciamo richiama no una certa una certa situazione ecco questo anche è dovuto anche ad una diciamo al fatto che alcune credenze popolari eccetera davano a questo gioco lo mettevano in certi riti che ricordavano la fertilità la diciamo la così queste situazioni per cui anche il semplice movimento di mettere in piedi il birillo che adesso ovviamente si gioca purtroppo sull'asfalto ma non so se avete notato nei primi filmati si giocava ancora sulla terra battuta quindi il birillo per stare in piedi veniva manovrato piantato nel terreno e questo era una simbologia che richiamava i riti della fertilità quindi piantare questo palo nel terreno e il fatto poi che appunto chi gioca sono esclusivamente le donne lo è ancora di più ora noi diciamo che a Faregliano ormai sono ancora una sessantina le donne che giocano soprattutto perché giocano principalmente le donne più anziane ma a volte nemmeno perché le ragazze non giochino ma per il fatto che le donne anziane non le lasciano giocare cioè questo non voler passare la mano abbiamo delle gare a cui partecipano signore che hanno 85 anni tenendo conto che di solito si fa quando ci si trova per queste partite che si fanno che ne so diciamo le donne giocano normalmente quando c'è la bella stagione si trovano ma poi si fanno delle partite in occasioni particolari tipo per esempio la Sagra la festa del paese si fanno questi tornei e qui giocano anche una sessantina di persone e queste partite durano perché non avendo una durata di tempo si arriva magari a luna di notte ancora con queste che tirano queste buttare giù questi birilli ci sono delle signore magari di 80 anni che sono ancora lì accanite per cercare di vincere qualcosa perché io vi dico io faccio l'arbitro e non è una bella cosa anche perché comunque c'è sempre qualcosa che non va perché la regola è si tira stando di qua di una riga la palla deve cadere al di là di un'altra riga il fatto di mettere anche solo un centimetro di scarpa di là a volte crea problemi notevoli proprio perché c'è un accanimento nel gioco che che questo rende comunque anche bello il gioco perché effettivamente appassiona e e dà diciamo un qualcosa un qualcosa di più a una semplice festa o un semplice trovarsi tra tra amici io non ho più nulla da dire io vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione e se volete vedere o anzi meglio se volete provare a giocare a birilli in piazzetta chiavica mi pare si chiami c'è il gioco dei birilli e ovviamente posso solo invitare le signore perché gli uomini non possono giocare assolutamente e quindi se volete domani dalle 10 fino alle 6 ci sono i birilli a disposizione le giocatrici che sono lì danno tutte le informazioni del del caso e vi fanno vedere i trucchi come si tira e e via dicendo vi ringrazio